Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sì, una sub è un euro Ah, ok, ok, ok Una sub è un euro, quindi di conseguenza se tu il primo giorno mi fai 400 sub tra la mattina e la sera La mattina e il pomeriggio dopo dove cazzo sono ho 1.100 euro A lei c'è anche meno Certo, certo Ciao donna Non ti devi spostare però Mi ciasco Sei un infarto Sì, sì, sono spostato Fatelo Ma hai vero? Sì, ma non ti devi spostare Ecco, va bene così Vabbè, se te l'hai tirato così è esagerato Sincero te lo fatterà più forte, dai, vai, vai Ma sei scherzato? Ma tutto bene? Non giocare perché ti faccio fare l'ospedale È il momento Oh, uff, 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 uff Ma però mi piace questa roba, no Perché guarda, dico sinceramente, guarda E io gioco, oh, che hai visto Era una gai semplice Ma che c'è a giocare, ok Ragazzi, ma si può fare live in un metodo di camper? Faccio un passo, sbatto e faccio male Se noi vediamo le nazionali più forti Alla Ferraghi, credo che faccia tantissime visita alla psichiatra Certo, come sempre No Noi in Italia abbiamo un Papa che parla di frocitori E quello che è successo alla Ferraghi Non è stato fatto da lei Caccia Che ha detto Corona? Corona? Un pollico senza E' tutto pippato, bro Ha pippato il socio? Mio fratello Sei cazzo Mio fratello Mio fratello Sè 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 Non so lunga Non so lunga Minchia piccola Ce l'ha detto Matilde? C'è una minchia piccola E mi hai detto che pure mentre scopi dici E io gioco Ok Quattro pizza o due? Due Una, due Due pizza o prego chat? Tu sei brava? Due pizza, questa, questa Di altro cosa abbiamo comprato oggi chat? Ricordatemelo Allora Le cose abbiamo comprato? Allora l'acqua non ponta Quella l'acqua devi Fai un'offerta Ma che sei? Fa vera sporco tu E' vicino a San Marco? 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 20 minuti E' per prendere qualcosa per arrivare E' ricotta dai cammina Prendiamo il monopatto nel letto Andiamo ragazzi Ma hai segretto? No, no Mi stava portando un attimino Prendendo la colbottica Stai tranquillo Non devi prendertela colbottica Ciao Beppe io ho una richiesta Ehm Ehm Ma ti fa di venire in camper con noi? No Bro non credo Ehm Io praticamente devo partire dal 15 al 21 in camper E volevo invitare anche te Ti va? Ma lui è immobile Ma che periodo? E' una discarica Siete folle No rubino maschile Siete rubino? Non andare in biacondotti Perché? Si fanno i portafogli Andiamo più giuro Andiamo più giuro Andiamo più giuro ragazzi con calma Vieni Vieni I due I due I due I due I due I due Poi ho visto il risultato No non ho capito Dai Matteo Il mio frate A più F Ma sai che secondo me è illegale Eh dico lo micro No l'hanno messo Dico lo micro Gracchia Si Un attimino Mento un attimino Stai sistemando un microfono Orapa Prendiamo i lucchetti e li mettiamo Si me lo attacchi al cazzo Me lo attacco al cazzo Scusa Ragazzi Voi avete visto i miei giugoli? Ciao 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 Sono te Sonia E per me mi vuoi Ah mio? Sì Certo Instagram Ok certo Fatto Ecco Grazie Anche tu? No 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 Il cameraman? Eh Il fax lot La denuncia funziona Ma non vuoi nemmeno essere la denuncia Ma vuoi ripreso me mentre tu scorreggiavi Testa di cazzo Ma vuoi anche parlare Almeno chiedi scusa Abbi l'umiltà di dire scusi Ho mancato di rispetto Una a una signora Due a una donna Andiamo i guai Andiamo i guai Andiamo i guai Andiamo andiamo ragazzi Non siamo ancora ripreso Imbecile E' normale E' normale ragazzi Purtroppo Vediamo giro chi c'è La famiglia di chi c'è dietro No no Ma non c'è nessuno Sento la voce di Anna Pepe Sento la voce di Anna Anna Ciao Annina Come stavi? Bene E' normale tu verme Benissimo Complimenti per l'album Grazie 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 mille E Puoi aver runciato E perché Permissa Ma perché non mi avete invitato? Infatti Non devi parlare con noi Scusa Non devo più parlare con voi Hai seguito qualcosa? Non lo organizzo io Ma sei lì con C'è anche Tony? Mio fratello vuoi? Un goccio Un goccio Tua tua La sport è finita E' finito Che sport è finita La sport è finita Venezia? Ma ti sei una veneziana No E' un po' triste Siamo amici Siamo amici Fermati Fermati Ok Mi dava un attimo via Parlo con Alice Un attimo un secondo Ma guardando Tentation Mi sta sbloccando la ro Sì no no Alice mi spieghi che conviene Madonna Stiamo guardando Tentation Ti farò sedere più spesso Comunque non so perché Lo so Dai Per chiudere il discorso di prima Cosa ne pensi di Salvini? Scusa il volo Che sta dicendo? Mi piace di più Sì Io vi ho sconso Eh A posto Non puro dopo Non posso avere reazione Cioè Non Grazie mille Ci sentiamo in Sarai morto No La matita si in il culo Dai culo La matita si in il culo Dai culo La matita si in il culo Dai culo Dai culo Stai cazzo di ombrello Stiamo in ombre Fatta voi Io Hd 50 abbonamenti No io c'ho il cazzo di ombrello Baccia Che c'è dimmi Ma tu sei ricco Ma 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 Grazie.